A ciascuno di noi il cibo racconta una storia, che inizia dall'agricoltura. E le nostre azioni si riflettono su ogni fase del suo viaggio. Abbiamo un solo pianeta e siamo parte di un sistema. È necessario ritrovare il contatto con la natura e lavorare all'unisono. Riscriviamo la storia del cibo. Le nostre azioni sono il nostro futuro. Grazie.